Ciao Selene, ma lo sai che hai un bellissimo nome? Il nome che aveva la mia nonna, pensa, nonna Selene, a cui ero molto affezionato. E sono qui per ringraziarti, per aver scelto me e per rispondere alla tua domanda, ovvero quando è che ho cominciato a scrivere le canzoni? Era insomma un po' di tempo fa ormai, verso i 18, 17, 18 anni, un po' quando avevo la tua età Selene. Quindi mi raccomando, cosa aspetti? Scrivi anche tu una bella poesia, una canzone, magari un giorno, chi lo sa, possiamo cantarcela anche insieme, io e te, fare un duetto, magari andiamo a Sanremo. Detto questo, insomma, io ti mando un grande bacio, un grande abbraccio, ti regalerò una rosa, magari un giorno capiterà che te la possa cantare dal vivo e intanto colgo l'occasione per invitare tutti quelli che stanno vedendo il video a fare una donazione, anche piccola, piccola piccola, però una donazione per festeggiare, per celebrare insieme la giornata per la sindrome di Down che sarà il 21 di marzo, 21 marzo. Mi raccomando fate quello che potete, date quello che volete e sarà comunque un regalo e un pensiero gratitissimo da Selene, da tutti i ragazzi come lei e anche da me. Un abbraccio, ciao Selene, ti mando un bacio.